Ma no, ma no, dai Eva, ti ho detto giocare dal bunker, non giocare in bunker con un paletto secchiello. Ma io mi sto divertendo zio. Vito che ti stai divertendo però. Allora, questo è il bunker, no? Una delle trappole del golf, cioè bisogna cercare di evitare di andarci. Poi quando vai in bunker prendi il tuo bastone, fai un colpo, esci e cosa devi fare? Devi rastrellare, ok? Perché? Perché fai il colpo, rimane l'orma, l'orma dei piedi e bisogna lasciare curato il campo, no? Perché quelli dietro devono trovare la stessa situazione di come l'abbiamo trovata noi. C'era il rastrello? Un po' piccolino, dai, usa questo. Però iniziamo a fare le cose bene. Adesso che giochi a golf, insomma.